Non ci sono lezioni a scuola per far colpo sulle persone e sfortunatamente questo significa che quando uscite nel mondo per farlo a volte possono uscire delle cose strane dalla vostra bocca ed ecco perché in questo video voglio spiegarvi 5 cose che non dovreste mai dire quando ci state provando con qualcuno La prima cosa che può succedere in un sacco di situazioni in cui guardate il profilo Instagram di qualcuna che vi interessa è notate che è un amico attraente e pensate subito che potrebbe piacerle lui oppure state parlando da soli con questa persona e poi scoprite che ha una cotta per una certa celebrità e lì parte una competizione i ragazzi potrebbero dire guarda quel tipo è troppo attraente, sembra gay, come fa a piacerti qualsiasi cosa sia vogliamo screditare quella persona il risultato però sarà che non potremo uscire con quella ragazza che ci piace a causa di ciò perché stiamo screditando noi stessi mostrando tutta la nostra insicurezza al contrario potreste fare un complimento genuino all'altra celebrità questo dimostra che siete sicuri della vostra sessualità e credete che in voi ci sia qualcosa di più del vostro aspetto quando siete sicuri non dovete essere le persone migliori quelle perfette in ogni campo potete fare dei complimenti ed avere comunque valore per voi stessi vi rende molto più attraenti la seconda cosa è da un punto di vista diverso questa è la situazione in cui guardate qualcuno e vi piace davvero e avete gli occhiali dell'amore su tutto ed è tutto perfetto quando vi raccontano una storia del tipo sai sono stata in Giamaica con la mia famiglia oh è fantastico e poi siamo andati in questo ristorante che è meraviglioso e ho mangiato questa bistecca deliziosa wow fantastico e quando continuate a dire fantastico, bello, meraviglioso ripetutamente fermatevi perché state alienando l'altra persona sicuramente vi incoraggio ad essere entusiasti lo faccio sempre su questo canale ma non tutto nella vita è fantastico e quando le persone se lo sentono dire credono che tutto quello che facciano lo sia anche quando non è così e penseranno ok, piaccio un po' troppo a questa persona, è troppo attaccata e non voglio andare avanti con lei quindi è molto meglio dire le cose in modo onesto le cose sono fantastiche solo quando vi colpiscono davvero e non dovete pensarlo quando non siete in quella situazione un po' di sarcasmo giocoso è davvero importante e potete dirvi queste cose nel modo più onesto possibile per esempio, fatemi indovinare fate volontariato con gli orfani nel weekend e probabilmente vi esercitate nell'ingegneria aerospaziale per divertirvi nel vostro tempo libero, giusto? questo è un modo simpatico per dire che siete davvero forti non si tratta solo di ripetere sei fantastico li fa ridere e diminuisce la tensione la terza cosa qui arriva quando finalmente siete pronti a passare un po' di tempo con quella persona magari in un ambiente più romantico quindi volete chiedere loro di uscire e trovate un po' di coraggio e dite vuoi uscire qualche volta? e con vostra sorpresa dicono di sì e va tutto bene oppure immaginatevi uno scenario della vostra vita in cui avete incontrato un vecchio amico per strada e entrambi siete sorpresi che bello vederti dovremmo uscire qualche volta e poi vi dividete e cosa succede? possiamo uscire qualche volta diventa un non usciremo mai perché non lasciate nessun tipo di piano su ciò che vorreste fare del tipo potremmo andare a è molto meglio fare dei piani concreti per cui potrete dire ehi mercoledì sera c'è questo concerto so che hai detto che ti sarebbe piaciuto vorresti andarci con me credo inizi per le 20 ora otterrete un sì o un no ma per davvero invece di un sì finto oppure un no completamente vago che avresti ottenuto da un non usciamo qualche volta quarta cosa molto simile a questa e credo che sia diventata popolare per i film posso avere il tuo numero questa frase ha un sacco di problemi è la stessa cosa succede con posso avere il tuo instagram ha a che fare con lo scambio di informazioni e di contatto come scopo dell'interazione quando state cercando di vedere questa persona lo scopo è quello di incontrarla ancora e quindi non c'è nulla di strano ma poi immaginate che qualcuno esca dal nulla e non ci sono piani concreti vi chiede il vostro numero di telefono e la vostra testa pensa cosa vuole questa persona mi scriverà tutto il tempo mi chiamerò quando sarò fuori a cena perché dovrei darle il mio numero? in realtà questo modo di fare può rendere la persona interessata a voi molto più diffidente nel passare del tempo con voi quindi invece di chiedere il contatto di instagram fate dei piani concreti e una volta fissati uscirete e lei dirà sì usciamo alle 20 mercoledì e dite fantastico qual è il tuo numero? non state chiedendo per avere il numero è solo per facilitare i contatti tra voi eccoci alla quinta cosa che ha un po' di dettagli diversi ma comincia con staresti meglio se saresti più attraente se ti tagliassi i capelli e quella che più spesso sento dire dagli uomini alle donne è se sorridessi di più saresti questo credo che arrivi dal non sapere cosa dire vedono qualcuno che sembra non divertirsi ad una festa e vogliono fare un complimento e dicono saresti più carina se sorridessi questa persona non sorriderà mai l'avrete solo resa più sensibile sul fatto che non sta sorridendo vi ponete come dei nemici e non si avvicinerà a voi quindi eliminate quella frase dal vostro vocabolario e anche tutte le altre simili non sappiamo perché lo facciamo se non perché siamo nervosi ma stiamo dicendo a qualcuno che sarebbero meglio se cambiassero qualcosa e suppone che ora non stiano bene questo fare in modo che la persona associ delle brutte emozioni a voi queste sono le 5 cose che sento fin troppo spesso e che dovreste eliminare dal vostro vocabolario quando ci provate con qualcuno per questo video è tutto ciao ragazzi ci vediamo nel prossimo grazie a tutti grazie a tutti